Buon venerdì ritrovati all'appuntamento con il Basket Toscano 196 che è il preambolo per ovviamente la trasmissione di punta Basket NBA 196 che poi seguirà il mio aggiornamento settimanale. Buon pomeriggio da Stefano Ballerini e bentornati. Buon basket a tutti. Andiamo a vedere subito di corsa per non togliere spazio importante quello che è successo in tutti i nostri campionati. E per dovere, ma è perché si gioca un campionato superiore, la 1 femminile dove siamo andati a giocare due partite, due squadre. L'Empoli che giocava in casa contro Venezia perde 61 a 82. Andiamo a vedere i tabellini con la miglior marcatrice, la Gueye Nundur con 21 punti di Venezia. La Bocchetti di Empoli ne mette a segno 17. La Stoicco sempre di Empoli. 12 punti al suo arco. Purtroppo non bastano. Empoli rimane sconsolatamente in fondo alla classifica. 22-23, buon primo quarto di Empoli. 16-29 la debacle. 11-18. La parità nel quarto tempino. 12-12. Andiamo a vedere. Allora, questo era un recupero della giornata numero 12, mentre il campionato va a giocare, a incastonare la giornata numero 19, che ha visto il derby appunto tra Empoli e Lucca. Lucca ha dovuto sudare le classiche sette canotte con molto sudore perché ha vinto la squadra di Lucca. 78-76, pensate, per cui era quasi uno scontro, un test a coda. Lucca ha messo benissimo alle spalle di Schio. Empoli, l'ultimo a fanalino di coda. Empoli che partiva fortissimo. 25-13. Poi parità nel secondo. 25-25. Poi Lucca si distaccava nel terzo quarto. 21-13. Portando a casa la vittoria. 19-13 nel quarto quarto. Andiamo a vedere le marcatrici dell'incontro. Allora, Lucca, l'americana Dietrich, 26 punti per Empoli. La Rezimbescaia, 23. La Bocchetti di Empoli, 14. Andiamo ad allungare, se si può, il tabellino delle giocatrici. Allora, veniamo alla Lucchese Vise, 13. La Baldelli di Empoli, 10. La Miccoli di Lucca, 10. E poi, sparse da 8 in giù, l'americana Williams di Empoli, 8. La nostra Gene, con 7. Parmesani di Lucca, 5. Ravelli di Empoli, 5. Gianola di Lucca, con 4. Stoiccova, Empoli, 4. La Narviciute di Empoli, 3. La Natali di Lucca, 3. La Gilli di Lucca, 2. La Manetti di Empoli, 2. La Frustaci di Lucca. Un punto. Allora, andiamo a fare il punto della situazione, i risultati del turno. Campobasto, Broni, 78 a 52. Lucca, che vince a Empoli, 78 a 76. Dopo il supplementare, San Martino, batte San Giovanni, 69 a 61. Il quinto tempino, 12 a 4. Il supplementare, Schio, che batte Ragusa, 77 a 41. Venezia, che batte Faenza, 87 a 57. Sassari, battuto in casa all'arrivo al fotofinish da Bologna, 91 a 95. Andiamo a vedere la classifica. Allora, Schio, 32. Come detto, Venezia, 24. Bologna, 24. Lucca, 24. Dicevo di Lucca, artigliato lassù in cima alla classifica. In seconda posizione, sia pure a braccetto di un trennino di tre. Ragusa, 20. San Martino e Campobasso, 16. San Giovanni, 14. Sassari, 12. Costa Masnaga, 12. Moncalieri, 6. Faenza, 6. Broni, 6. Empoli, purtroppo. Due belle partite, due sconfitte. La seconda, veramente combattuta nel derby, ma rimane sconsolatamente. Ha due punti in classifica. Andiamo invece alla Serie A2. Il girone verde, ma andiamo a leggere tutti i risultati del turno. Cento Forlì, 65-45 il ventino. Biella Monferrato, 88-84 di 4. Tempo supplementare, 9-5. Chieti, Nardò, 60-77. Mantua, Cantù, 70-59. Cantù che sprofonda. San Severo, Ferrara, 78-73. Scafati, Stella Azzurra, 77-60. Treviglio, Urania, Milano, 68-73. Squillo di Milano nel derby con Treviglio. Verona, Ravenna di 3, 81-78. Chiusi, va a vincere a Fabriano, 92-81. Trapani che batte Orzinuovi, 65-56. Torino, Capodorlando, 88-87 di un punto. Non ha giocato, ha riposato Pistoia. Andiamo a vedere. C'è stato poi un recupero. Quello dove Latina è stata battuta in casa da Scafati, 90-89. Tempo supplementare, combattutissimo. 15-14 per Scafati. Andiamo a vedere le classifiche. Allora, il girone verde che è quello che ci interessa. Udine, 26. Pistoia, 26. Cantù, 22 che perde leggermente strada, come dicevamo. Monferrato e Treviglio, 20. 18 Torino con Piacenza a Siceco. Mantua, Trapani, 14. Capodorlando o Orlandina, 12. Urania-Milano e Bacca di Piacenza, 10. Biella, 8. Orzinuovi, 2 punti. Allora, evaso la serie A2 maschile. Andiamo alla serie A2 femminile. Il girone sud, dove troviamo un recupero per risalire la china dei risultati. dove Umbertide ha battuto Selargius, 67-54. La recupero giornata 13. La giornata 16, invece, Savona-Capri, 62-84. Umbertide che va a vincere a Civitanova Marche, 71-55. Lo Spezia che batte il Nico Basket di Montecatini, 81-52. Vigarano-Valdarno, 51-88. Cagliari batti paglia, 56-50. Il Firenze-Palagiaccio va a perdere in terra sarda contro il Selargius di poco, di 3, 47-50. Andiamo a vedere quello che è la classifica del raggruppamento, dove Valdarno conduce, abbiamo una Toscana in testa, 24 punti. Spezia, 22. Umbertide, 20. Firenze-Palagiaccio è a 20 punti in quarta posizione. Due perse, due vinte e una perse, le ultime cinque. San Salvatore Selargius che risale a 14 con Savona e Cagliari. Patti e Vigarano, 12. Matelica, Capri e Battipaglia, 10. A 8 in fondo della classifica. Civitanova Marche, Nico Basket e Montecatini a 8 punti. Allora, da qua invece andiamo a vedere il Comitato Regionale Basket Toscane. I campionati, vediamo, intanto andiamo a vedere i nazionali di la Serie B, dove ci sono squadre toscane. Il tempo di sincronizzare tutto. Allora, si è giocato il terzo turno del girone di ritorno. Allora, San Giorgio su Legnano, Cecina, 78-81. Cecina stacca due punti importanti in traspetta. Oleggio, battuto in casa da Onicusano Livorno, 76-84. All Food che esagera nel derby con l'Empoli, 80-68. Piombino, che perde l'unico risultato negativo delle Toscane. In casa, battuto dal Colsanus Varese, 64-77. Borgo Manero, asfaltato in casa dalla nuova pallacanestro, Vigevano, 58-73. Vince San Miniato, che batte una grande, la Paffonio Megna, 71-60. Electronics Legnano, Scotti Pavia, 82-61. San Bernardo, Corneliano, Murelli, Gruppe Livorno. Ecco, questa è la seconda sconfitta toscana. 68-59. Pallacanestro, Vigevano, 1955-30. San Miniato, 28. Omegna e Electronics Legnano, 24. San Bernardo, Corneliano, 22. Scotti Pavia, Unicosano Livorno e All Food Enice, che sale. 18 punti per questo trenino di tre squadre. A 16, Colsanus Varese, con Murelli, Gruppe Livorno. A 14, Solbar, Piombino. A 12, Cecina. A 12, anche Oleggio. A 12, anche San Giorgio sul Legnano. A 10, Empoli. Chiude il Cipir, Borgo Manero, che ha sei punti in classifica. Andiamo a vedere, invece, quelli che sono gli altri risultati. La C-Gold maschile. Allora, anzi no, 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 per dovere di cavalleria. Ricordiamo anche la prima fase del girono unico della B femminile. Poi entriamo nel novelo del recupero infrasettimanale giocato mercoledì. L'ultimo turno, andiamo a fare il giusto punto della situazione. Quinta di ritorno. Gea Basketball, Grosseto. Jolly Huckley Basket, Livorno. 27, 83. Caporetto per Grosseto. Non si è giocato Academy La Spezia. Baloncesto, Firenze, verrà giocata il 16 di marzo. Basket e Ponte d'Era. Foto Amatore Florence, 60, 37 purtroppo. Poi, Unicosano, Pielle, Livorno. Drago, Costone. 44, 54. Siena passa a Livorno. Lemura, Lucca, Prato. 44, 74. Trentello del Prato in trasferta. Non si è giocato. Nambere, San Giovanni Valdarno, Perugia. Si recupera il 30 di giugno. Per cui è un recupero lungo. Se serve, si giocherà. Se non serve, si casserà. Poi, nel recupero infrasettimanale. Allora, andiamo a vedere il recupero. Florence Costone Siena si è giocato mercoledì a San Marcellino. E la banda di Paolo Romanelli ha sfiorato il ritorno alla vittoria. Siena vince al Photo Finish, 63 a 61. Intanto mi scuserete, devo chiudere questo. Bene. Allora, 19-23, 30-37, 11-14 il secondo tempino. 40-53 e poi 63-61 con un gran quarto tempo per Firenze. Che, con i fischi arbitrali di Dori e Pierallini, con 6 su 9 i tiri liberi di Firenze, 5 su 10 di Siena. Manda a referto. Le immagini sono dell'ultima partita. La sconfitta, purtroppo, in casa di Firenze. Foto Amatore Florence, 3 di Stefanini. Non è entrata la Voicu. Navarria, senza punti. 13 della Mascio, che continua ad andare sempre e comunque in doppia cifra. Banulescu, non è entrato. Cavalieri, non è entrato. Casiglia, 12. Diacate, 2. Santulli, 10. Zatini, non è entrata. 5 della Consumi. È rientrato alla nostra Colantoni. E quando lei gioca, si sente immediatamente. Segna 16 punti e per poco non porta la vittoria. La Florence, Costone Siena, che da parte sua manda a referto. Posta, Pastorelli, 2 di Balestrazzi. Bonaccini, Lippi, Barbucci, 18. Dragone, 17. Sposato, 11. Che sono le tre condottiere. Nanni, 6. Pierucci, 5. L'altra, Bonaccini, 4. Sabia, allenatore Nencini. Purtroppo, come detto, la sconfitta in Serie B femminile. Intanto proseguono le immagini. Allora, Joli, Acli, Basch e Livorno. 26 su 13. L'hanno vinte tutte le Livornesi. Perugia, 22. Nambre e San Giovanni Valdarno. 20 su 13, meno una. Drago, Costone Siena. 18 su 15. Pallacanestro Femminile Prato, 16. Ponte d'Era, 14. Academy da Spezia, 14. Unicusano, Piero e Livorno, 14. Baloncesto, 12. Ma su 13, dunque, le Fiorentine ne hanno da recuperare due. Lemura Lucca, 8. Foto Amatore, purtroppo, 2 su 14. Gea, Basch e Pol, Grosseto, 0. Le hanno giocate tutte e 16. Andiamo, evaso questo. Andiamo a vedere i nostri campionati. La Serie C Gold. Prima fase, prima fase. Girone A. Dunque, si è giocata la quarta di ritorno. Allora, occhio ai tabellini. Erons, Montecatini Terme, Sinegi Basch e Valdarno, 102 a 68, esagerando. Cantini Lorano, Olimpia Legnaia, batte Lucca, 70 a 67. Agliana, Spezia, 99 a 87. Cosmo Kercus, Pisa. Gea, Montecatini Terme, Basch e 79 a 88. Val di Sieve, battute in casa da Montevarchi, 78 a 82. Toscana Food, Don Bosco Livorno. Amen, Scuola Basch e Tarezzo. La parola Amen, 49 a 53. ABC, Castelfirentino, che soffre ma batte il Consorzio Leonardo, 86 a 82. Non si è giocato. Virtus Siena, Sibe, Pallacanestro, 2000 a Prato. Verrà recuperata la prima data, 30 di giugno. Se servirà anche qui, si giocherà, altrimenti verrà cassata. Eros, Montecatini Terme e Gea, Montecatini Terme, Basketball, 30. Prosegue la corsa delle due squadre di Montecatini. Chissà che il prossimo anno non si fondano, ne facciano una forte forte e che Montecatini possa tornare di stare in serie, perlomeno a due. Spezia 24, Olimpia Legnaia 20 insieme alla Palacanestro Prato 2000. 18, Basch e Tarezzo. 16, Virtus Siena. 16, Basch e Valdarno. 16, Consorzio Leonardo Servizi. A 16 anche l'ABC, Castelfirentino. A 14, Agliana 10, Lucca 8, Montevarchi 8, Cuspisa Toscana Food Don Bosco Livorno. A due punti in classifica. Andiamo e proseguiamo con la Serie C Silver. Prima fase, il girone A. Allora, anche qua si è giocata la quarta di ritorno. Andiamo a vedere cosa è successo. Bianco Rosso Empoli, Invictus Basket Livorno 85-34. Un trentunello, via andare. Vela Basket, Brusa Livorno. Rinviata, si gioca il 9 di marzo. Valdera, Carrara 9-3, 7-5. Costone Siena, Palacanestro Campi Bisenzio. A sorpresa vince Campi Bisenzio. 57-69. Montale, Carrara 55-50. Liburnia Basket, Alto Pascio 70-86. Menzana Academy, Laurenziana Basket, 75-63. Fucecchio, Ponte D'Era 67-52. Menzana Academy, 30. Costone Siena, 28. Comandano le due di Siena. 26, Fucecchio. 24, Alto Pascio con Campi Bisenzio. 22, Laurenziana Basket, Firenze. 20, Valdera con Biancorosso Empoli. 18, Montale. 16, Carrara. 16, Liburnia Basket. 16, Laudax Carrara. A 6, Brusa Livorno. A 2, Vela Basket, Ponte D'Era. E anche l'Invictus Basket Livorno. Proseguiamo la nostra cavalcata. Scendiamo in sede di regionale. Prima fase, il girone A dei tre che vi racconteremo. Allora, andiamo a vedere. Qui invece si è giocato il quinto turno. Girone discendente. Galli Basket. Asciano, 85-61. Parmolai a top service e Maginot. Reggello, 49-65. Non regge la linea Maginot. Basket, bianco-blu. Terranova Bracciolini, 69-68. Al fotofinish. Non si è giocato. Pino Dragons, Poggi Bonsi. La partita verrà giocata il 27 di febbraio. Al Paracoverciano alle 20.30. La Sankat. Qui c'è la felpa della Sankat. Eccola qua. Michele Pierguidi. Ti ricordiamo sempre. Anche se ti mando qualche WhatsApp di troppo. Ma mi devi scusare. Te sei di là. Io sono di qua. Vi tengo aggiornato su quello che voi combinate. Sankat batte Baschett-Aretino 65-53. Parmolai a top service e Maginot. Bianco-blu e Galli Baschett-San Giovanni-Valdarno 18. Asciano 16. Poggi Bonsi 14. Sankat a metà del guado 12. Pino Dragons-Firenze 10 ma con 11 giocate. Reggello 10. Terranova Bracciolini 8. San Sepolcro e Baschett-Aretina hanno 4 punti in classifica. Andiamo al nostro Girone B. Allora, il Girone B ha giocato il quinto turno della fase discendente. Girone di ritorno. Certaldo-Costruzioni-Prato 53-59. Sestese-Valbisenzio. Il derby si gioca il 16 di febbraio. Cus-Firenze-Levante-Jokers rinviata al 9 di marzo. Bottegone-Basket-Pistoia-Montemurlo il derby 67-65. Chiesino-Uzanese-Palacanestro-Calenzano 69-61. Cus-Firenze-Levante-Levante-Levante-Levante-Levante-Levante-Levante-Levante-Levante-Levante-Levante-Levante-Levante-Levante-Levante-Levante. Santo Stefano 12-Levante-Levante-Levante-Levante-Levante-Levante-Levante-Levante-Levante-Levante-Levante-Levante-Levante-Levante-Levante-Levante-Levante-Levante-Levante-Levante-Levante-Levante-Levante-Levante-Levante-Levante-Levante-Levante-Levante-Levante-Levante-Levante-Levante-Levante-Levante-Levante-Levante-Levante-Levante-Levante-Levante-Levante-Levante-Levante-Levante-Levante-Levante-Levante-Levante-Levante-Levante-Levante-Levante-Levante- Esco Piombino 8-6-7-2, Oltremare Fides Livorno, Basketrucca 68-56, Pescia Calcinaia 51-58, Gea Basketball Grosseto, Castelfranco Frogs 71-56, Val di Cornia Bellaria Cappuccini Pontedera 66-69, Gea Basketball Grosseto con Oltremare Fides e Palacanestro Livorno 18-16, Calcinaia 14-11, San Vincenzo con Val di Cornia in Monsummano a 10, Lucca e Castelfranco Frogs a 8, Bellaria Cappuccini, Pontedera 2-0, Pescia 0-0, Esco Piombino. E proseguiamo con la nostra discesa, campionato promozione maschile, la fase regionale, noi andiamo al girone di, perché qui gioca la mia isola d'Elba, il basket Elba, seconda di ritorno, Volterra Stone Export, Livorno Basket 70-63, la dispensa campagna ad onoratica a Polisportiva Chimenti posticipata al 2 di marzo, Copp Massa Carrara Legends 54-60, Dinamo Basket Rosignano, Lucca Skywalkers 65-87, la partita Rosignano Manufacturing Sport Pisa è posticipata al 23 di marzo, Stagno che vince al photo finish purtroppo contro la mia Palacanestro Emboli finisce 56-54, la classifica dispensa di campagna ad onoratico 18, Lucca Skywalkers e Volterra 14, Carrara Legends 12, Manufacturing Rosignano e Palacanestro Elba 10, comunque un buon campionato per gli elbani, Nicola Chimenti, Stagno, Pisa ne hanno 8 a 6, la Stone Export Livorno Basket a 0 purtroppo, Copp Massa e Dinamo Basket Rosignano, i nostri amici di qualche passata stagione che salutiamo sempre, gli amici sono in contatto con Enrico Milano, se ti fai mandare qualche foto, qualche piccolo filmato e soprattutto il tabellino delle loro partite, ovviamente li daremo in questa trasmissione. Dunque è tutto per questo appuntamento del basket toscano, come detto ribattizzato così, basket di Noartri, dalla Serie A 1 femminile al campionato di promozione Girone D della Palacanestro Elba, abbiamo detto e raccontato tutto di tutto, punteggi, tabellini, rinvii, classifica aggiornate, grazie al sito del comitato Palacanestro Basket Toscana, grazie, forza Florence, qui la maglia, i ragazzi del basket integrato dell'amico Calamai, gli Over the Limits che purtroppo ancora non hanno ricominciato i loro allenamenti il lunedì, questa è una cosa grama, vergognosa, che il comune non abbia riaperto le due ore del lunedì, dalle 14.30 alle 16.30, ai ragazzi, al gruppo, a tutti, a noi tutti, manca questo appuntamento, riaprite San Marcellino per loro, glielo dovete, è un viatico, è un ordine che io vi invio. Allora, ci ritroviamo fra una settimana, il venerdì, con questo appuntamento, adesso qualche attimo di interruzione, Pianeta Basca NBA 196, professor Provenzano, dottor Paolo Caselli, la trasmissione di Basca è più bella dell'universo terraquio. Grazie, grazie Enrico Milano che mi ha supportato in cabina di regia, più tardi segue Palombella Biancorossa, parleremo di pallanuoto. A più tardi, grazie, arrivederci.